Chiediamo da anni di migliorare questo percorso ciclopedonale, ma siamo contrari al progetto così come studiato e appaltato. A ribadirlo oggi è Luciano Benini del Comitato Arzilla Resistente, che continua a chiedere al Comune di rivedere l'intervento redato da ASET sul tratto finale della ciclabile Fano-Mombaroccio. È un percorso che da 25 anni, lo so perché ho contribuito 25 anni fa, ero assessore a realizzarlo e consente a tutti, mamme con bambini, con carrozzine, persone anziane, persone disabili. Io sto qui sopra e un mio amico mi viene a trovare passando in carrozzella, passando in questo percorso. Naturalmente ci sono nel tempo dei punti che si sono ammallorati, proprio qui dove siamo ci sono spuntoni di cemento, di vecchio asfalto, ce n'è ancora qualcosa qua giù in fondo. Quindi sono anni che chiediamo un miglioramento, una messa in sicurezza con piccoli interventi. Il ponticello proprio qui di fronte a noi è messo malissimo. Benini poi ha ricordato che il tratto che va dalla Paleotta all'azienda Morelli è diviso in due dal ponticello e il progetto interviene solo sul secondo percorso, andando a realizzare, ha detto, un'opera fuori dal contesto fluviale e naturalistico. Questo intervento è un intervento che va a tagliare inutilmente la scarpata che è lì da 25 anni. Ci si dice che è a rischio di caduta. Non è assolutamente vero perché sono 25 anni che è lì e sarebbero stati tutti i sindaci da allora fino ad oggi irresponsabili ad aver fatto passare per 25 anni migliaia di cittadini in un tratto pericoloso. Se noi non tocchiamo la scarpata, sistemiamo il fondo, mettiamo l'illuminazione in questo ultimo tratto che non c'è. Oggi si possono fare illuminazioni autoalimentate che si accendono al passaggio e si spengono subito. Perfetto. La staccionata, proprio qui dove siamo, c'era una volta una staccionata, non c'è più ed è giusto metterla per proteggere. Stessa cosa nell'alto tratto, non c'è più la staccionata e là c'è bisogno molto di sistemare il fondo. Le modifiche, richieste pure in Consiglio Comunale, potrebbero essere apportate anche in corso d'opera. Anna Carotti, residente della zona e facente parte di diverse associazioni cittadine a tutela dell'ambiente, si dice amareggiata. Profondamente delusa dal fatto che le associazioni Arzilla Resistente, Arzilla Viva, il Comune di Fan e Asit non riescono a trovare un punto di incontro per elaborare un progetto sano, un progetto vivibile, un progetto che possa mettere veramente d'accordo la cittadinanza. Perché molte persone, me lo mettono anche sui social, sono contrarie a questo stravolgimento e quindi io penso che si debba riuscire a trovare un punto di incontro. L'amministrazione comunale ci aveva promesso in alcune riunioni che sono state fatte con i funzionari, gli amministratori, eccetera, che avrebbero cercato di trovare un progetto meno impattante, è cosa che più ad oggi io non vedo questi risultati. E questo mi dispiace perché credo nel valore delle associazioni, nel valore dei comitati e nella possibilità di tutelare un bene che abbiamo qui a poca distanza dalla città. Della stessa linea è l'architetto Giorgio Ruberti. Intervenire in zone come queste, senza possedere la storia, senza avere una conoscenza dettagliata, si possono fare dei danni seri. Preoccupa che uno non si renda conto che questo è un ambiente estremamente raro, estremamente piacevole, che a noi che l'abbiamo vissuto negli anni, io sono nato davanti alla palestra Trave praticamente, e chi l'ha vissuto negli anni questo territorio era da ragazzi l'anticipazione, ma anche da adulti l'anticipazione di che cosa ci aspetta in fondo a questo percorso, cioè il mare. Inserire le gabbionate per 70 metri di lunghezza e abbattere gli alberi, ha spiegato Roberti, significa snaturare completamente il territorio. Viene presentato un progetto che non è una qualità e non è una nuova architettura del paesaggio, ma è una brutalizzazione del paesaggio. Se diventano delle superstrade ciclistiche, alla fine diventano altri elementi di violenza per un turismo che c'è, ma non c'è nemmeno la quotidianità del ciclista, non la si fa sulle piste ciclabili, la si fa sulle strade. Questa gabbionata, chiaramente, con la riduzione di questo tracciato, può essere eliminata, perché facendola su tutto il percorso di una dimensione mediamente attorno ai 4,5-5 metri, è chiaro che va a erodere la scarpata e quindi di conseguenza la gabbionata ha la sua necessità. Ma non facendola, a questo punto deve scomparire da qualsiasi ragionamento di mediazione e di progetto, chiamiamolo esecutivo, da realizzare qui sopra.